Quello del Brucchi Bis è stato un parto lungo e travagliato. Come nelle migliori tradizioni dunque, e come nelle migliori tradizioni, ha anche lasciato più di uno strascico polemico. Che Paolo Gatti e Paolo Tancredi, in rappresentanza di Forza Italia, Futuro In e Nuovo Centrodestra, facessero la parte dei leoni, era ampiamente pronosticabile. D'altra parte, Gatti con Futuro In e Forza Italia ha portato a casa la maggioranza dei consiglieri del Centrodestra e dunque era inevitabile che a conti fatti prendesse cinque assessori. Per di più, tre di questi sono donne, Eva Guardiani e Francesca Lucantoni per Futuro In e Mirella Marchese per Forza Italia. Il Nuovo Centrodestra, che a Teramo ha ottenuto il miglior risultato elettorale della regione, ha avuto i tre assessorati, una donna, Valeria Misticoni, e due uomini, Mario Cozzi e Marco Tancredi. La nomina di quest'ultimo ha creato i mal di pancia nella lista civica dei popolari e negli assessori uscenti non confermati come Guido Campane e Alfonso Di Sabatino Martina, che rivendicavano una delega. Una riflessione va fatta. Paolo Tancredi, nella passata amministrazione, aveva bozzato sul fatto che il fratello Marco non avesse incarichi nonostante il risultato ottenuto. Dopo cinque anni, per ragioni di equilibrio, non poteva farlo ancora. Far passare la mano anche questa volta avrebbe significato una prova di debolezza che il parlamentare Teramano, unico politico di riferimento in questo momento per la città di Teramo a tutti i livelli, non poteva accettare. Ne andava della credibilità del suo gruppo e soprattutto di una leadership all'interno del centrodestra Teramano che non poteva essere lasciata. A rappresentare le liste degli altri, come potremmo definirle, c'è Giorgio Di Giovan Giacomo, che potrebbe rappresentare la continuità. Milton Di Sabatino sarà il presidente del Consiglio, che è convocato per la prima assise venerdì pomeriggio. Sarà un consiglio caldo, questo è certo, e non solo perché siamo in piena estate.